Il Palermo va a caccia della terza vittoria consecutiva in trasferta. I rosanero scendono in campo nel posticipo di questa sera a Bolzano contro il Sud Tirol con l'obiettivo di risollevarsi anche dopo la pesantissima debacle in Coppa contro il Napoli. Sono diversi i dubbi per mister Dionisi così come le assenze forzate. A Gomis di Bartolo e Blen si aggiunge anche il forfè di Pierozzi rimasto in box per un affaticamento muscolare. Ritornano a disposizione di Francesco Verre e Nedelcearu. In dubbio la presenza del difensore con la linea che dovrebbe essere composta da De Planch, Bagnat e Nicolau con Diakite e Lund sulle fasce. Da definire lo schieramento della fase offensiva con il dubbio sulla presenza di Henry o di Brunori come terminale offensivo. Probabile il rientro dal primo minuto di Insigne ma ci si aspetta anche l'inserimento di Ledouaron, il trio d'attacco completato da Di Mariano. Allo stadio Druso il fischio di inizio alle 19.30.